Musica 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 Nuova puntata di Fido Diretto, siamo all'hotel del cane di Curtatone con Davide, ciao Davide, ciao Barbara Anche oggi abbiamo due cagnolini che stanno cercando una famiglia, chi presentiamo? Oggi presentiamo Luna del comune di Roncoferraro e Attiglio del comune di Savionetta Partiamo da Luna, che caratteristiche ha? Guarda, Luna è un incrocio pitbull sostanzialmente, quindi un cane di taglia media, circa sui 20 kg, a circa 10 mesi è già sterilizzata ed è in struttura da circa un mesetto Quindi è arrivata dopo l'estate Esattamente, esattamente, sì 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 E è una cagnolina, anzi una cagnolona Anche se è piccola di età Esatto, piccola di età, ma insomma la taglia incomincia ad essere importante Molto giocherellone, insomma molto dinamica e quindi insomma è un cane adatto a persone giovani, magari anche con bambini, ma che comunque abbiano tempo e tanta voglia da dedicare a Luna Può essere tenuto in appartamento, l'importante è portarlo tanto fuori oppure si consiglia? Sì, guarda io ti dico, la dimensione del cane comincia ad essere abbastanza importante, quindi l'appartamento si va bene ma deve essere un appartamento insomma di una certa metratura E comunque, esatto, ci deve essere la possibilità di portarla fuori spesso L'altro cagnolino che presentiamo oggi? L'altro cagnolino è Attilio, che ha un incrocio segugio, anche lui di circa 7-8 mesi, è entrato anche lui con la fine dell'estate Pesa circa 10-12 kg E anche lui è un cagnolino, chiaramente vista l'età che ha, eccetera, molto giocherellone, ma molto molto affettuoso Non ha un carattere dominante e quindi io lo vedrei bene, insomma, con sostanzialmente tutte le tipologie di famiglie Ecco, per tutte e due vale il discorso che possono relazionarsi anche con altri animali, insomma, se ci fossero in famiglia già altri animali Guarda, noi non abbiamo evidenze del contrario, nel senso che fino adesso i problemi con altri animali non ce ne sono stati È chiaro però che se in famiglia c'è già un altro animale, noi consigliamo di venire col cane e di vedere se questa compatibilità effettivamente c'è oppure no Escono in passeggiata, loro possono essere conosciuti meglio venendo qua? Guarda, noi siamo aperti il mercoledì e il venerdì dalle 13 alle 17 e il giovedì e il sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno Quindi chi è interessato a Luna o a Tiglio può venire in struttura, li può portare fuori e può verificare di persona se possono essere il cane che fa per loro Certo, ecco, sia Luna che a Tiglio, come gli ultimi cagnolini che abbiamo presentato in questo mondo, sono molto giovani Sì, abbiamo avuto un po' di ingressi di quella tipologia lì, quindi cani dai 6 ai 10 mesi, un anno Noi sappiamo però che sono cani che difficilmente rimangono in struttura Insomma, ecco, però ci fa comunque piacere presentarli in maniera tale che ci sia più gente che può valutare l'opportunità di adottarli o meno Assolutamente, anche perché poverino, ma sendo piccola mi vuole ricorrere Sì, assolutamente Trovare una famiglia è sicuramente la loro collocazione migliore Assolutamente sì Assolutamente Assolutamente Grazie.